bella domanda da un punto di vista tecnico sicuramente il digitale è superiore praticamente in ogni aspetto è più versatile è più accurato i colori vengono meglio riprodotti la gamma dinamica è ormai superiore un sacco di vantaggi ma d'altra parte qual è la tecnologia di oggi che non sarebbe superiore ad una di oltre 100 anni fa ma come sarebbero andate le cose se invece le pellicole avessero continuato ad evolversi dagli anni 90 fino ad oggi in questi ultimi 30 anni come sarebbe stato oggi un ipotetico confronto e secondo me qua ne avremmo scoperte delle belle perché la pellicola aveva ancora moltissimo da dire erano in atto una serie di evoluzioni molto molto importanti che sono state troncate dall'avvento del digitale